e' vero c'è veramente l'ultimo intercettore non volevo dire con la 25 stessa parte l'ultima di oggi per farlo il quarto mondo alleluia sia ha visto come fa grande il tubo con cron cron è andata a torno flotta navale di poste di un'altra ragazza Dai! Mega robot martellante! Ok dai! Siamo arrivati al castello L'Italia Ehm Ehm Non si 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 è Non mi troppo Diciamo Con un pochino Un pochino di tempo In piu perché Si è un po lungo e poi li devo farvi vedere come Aspetta Pallo Da 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 no se non mangiare quando quando diciamo solo elettrificato per te per quanto tutto 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 uomo uomo vai bene la scelta ho uomini la città 6 ciò per cura iassi ho trovato tor moneta uo bravo se lo so non mi dai a commenta ah è più avanti, ora mi ricordo una bella vita aspetta Yoshi nooo meno male che sarei otto a metà mannaggia miseria che sfiga vabbè adesso adesso distruggiamo sto cacchio mamma vedi se ti toglie nooo vai guardate qua avete visto sembra che non lo so sembra che siamo in un film un fantasma proprio e qua sopra ciò mai dare a commenta nooo dai nooo vabbè per non fare perdere tempo ci vediamo a questo punto dai perfetto perfetto eccoci qua non proprio lo stesso punto ma proprio lo stesso punto un pochino più avanti e qua dovete essere molto veloci perché è per il troppo vittorio è limitato il porto questo spazio qua hai quattro fortuna qua tanto è caduto di si devono mamma vediamo se poi prendiamo lo stesso a destra non mi ha letto mai male eh non fate se questo video uscirà un pochino più corto mentre su del castello non chi dice è la testatura allora signora al posto visto che c'è trattato e anche cosa attiva stavolta uuuu eeeh un po' enorme ma io ci non sono niente in confronto ovviamente qua con i cannoni dovete colpire le parti di vetro e uno cannoni spara automatico magari vengono non no attenzione attenzione poi e dovete andare anche da dietro no no vai 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 buono no 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 è un po' tosto questo questo lo non no no ma il porto adesso pari vai se è buono adesso poco più nella parte di sopra che diverte così cazzo bisogna stare attenti appena si abbassa l'avete visto un po' mesi integrato ops attenzione girati bello sono qui purtroppo ora sei distrutto con un'attacca di energia che pura è riuscito a scappare mannaggia mi sei ma il quinto mondo non si salverà che fortuna è stato un combattimento all'ultimo saluto proprio vai avete visto bello da 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 e siamo a quota terza mega stella 50 super stelle bello bello perfetto direi che posso finire qua sono stanco morto ho fatto da 12 parti oggi per la quindicesima e andiamo al quarto mondo sei 50 da da 2088 sto sketch e 993 monete quasi mille monete la terza mega stella al prossimo mondo è per 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 al quarto adesso non ricordo come noi diamo se lo guardo me lo ricordo forte ma oppure questo è uno dei modi più belli in assoluto beh ragazzi che vi devo dire vi devo lasciare non mi devo lasciare in questa serata sono stanco morto ci vediamo con un'altra serata con la 26 e sono 27 siamo partiti su porno ragazzi 2 e il quarto mondo ciao